C'è una vita dopo il divorzio? Sei finalmente libera? E te lasciami? Puoi bere quanto ti pare? Ritrovi le amiche di sempre? Ho delle tette veramente da urlo oggi! Ti fai sia le tette nuove che il vicino di casa? Ok, tuo figlio se ne va! Penso che partirò per il college domani. Ma trovi un analista? Sono una pessima madre. Ma quale crisi di mezza età? Cougar Town, la seconda stagione in prima assoluta dal 7 febbraio su Pax Life. La seconda stagione in prima assoluta dal 7 febbraio su Pax Life.